Ciao, sono Ilaria Gaudenti, Master Crystal Nails. Ho conseguito il titolo di Master durante il Campus del 2021 e da quel momento la mia vita è completamente cambiata. Da ormai più di due anni ho la fortuna di incontrare tantissime corsiste in tutte le Accademie d'Italia. Il mio cuore batte forte per i corsi di struttura, dalle basi fino ai corsi più avanzati, come l'avanzamento gel e gli extreme shape. Nell'ultimo anno mi sono appassionata tantissimo a una nuova tecnica, reverse e in particolar modo extreme reverse. Io e tutte le mie colleghe vi aspettiamo in tutte le Accademie d'Italia. Se sei già una nostra corsista oppure speri di diventarla, non ti resta che contattare il tuo rivenditore di fiducia. Ciao!